Importante scoperta archeologica vicino a Ciampino, rinvenuta la villa attribuita ad un grande personaggio dell'epoca di Augusto. Ce ne parla Gianni Maritati. Riemergono dal passato in tutta la loro sconvolgente bellezza. Sette statue dell'antica Roma che raccontano il mito classico di Niobe, la madre disperata per l'uccisione di tutti i suoi figli. Appartengono a un gruppo statuario importante, conosciuto da numerosi ritrovamenti che sono attestati in vari musei del mondo, però noi li abbiamo trovati tutti insieme. Sono state rinvenute durante l'eccezionale scoperta, anticipata dal quotidiano Repubblica, della villa attribuita a Marco Valerio Messalla Corvino, figura di spicco dell'età augustea e protettore di grandi poeti come Ovidio e Tibullo. Lo stesso Ovidio cantò il mito di Niobe, forse ispirandosi proprio a queste statue, ora collocate in un deposito. Gli scavi sono stati condotti in collaborazione con il comune di Ciampino, l'area è vicina all'aeroporto, dalla soprintendenza per i beni archeologici del Lazio. Abbiamo interessato l'istituto superiore del centrale del restauro che sta facendo proprio delle prove di pulitura e quindi vedremo, insomma, anche apprezzeremo meglio queste statue in una fase più avanzata dei lavori.